già lo sapete tanto già lo sapete buongiorno per chi si sveglia buongiorno per chi non fa niente buongiorno per chi per chi si sveglia due volte e buonanotte per chi va a dormire che ha fatto il turno di notte quindi siamo in alto video alle 7 del mattina cerco di portare sempre questi contenuti perché in questo momento vanno anche particolarmente bene e quindi oggi dobbiamo parlare della questione bernardeschi e più che bernardeschi della radio ufficiale del napoli sostanzialmente perché quello è il nocciolo della situazione e voglio spendere due parole anche per culibali perché ad ora non ci sono nuove notizie su bernardeschi ma comunque se ne dovessero uscire prima delle 7 del mattino di domani mattina cambia poco perché la questione è che la radio del napoli ha smentito bernardeschi a napoli cioè ha detto praticamente no piace bernardeschi però non abbiamo fatto fare non hanno fatto offerte non hanno quando in realtà de laurentis disse qualche giorno fa in un'intervista proprio che lui ha trattato personalmente con bernardeschi e quindi capite bene che non è vero che non c'è stata nessuna offerta se io tratto con un giocatore io sono il presidente tratto con un giocatore l'offerta gliela faccio non è che vado là e parliamo di che mi sono mangiato stamattina a colazione ti faccio un'offerta dico guarda io ti offro 3 milioni di euro l'anno se ti va bene poi mettiamo nero su bianco e quindi secondo me non c'è un po' una scemenza ok e poi l'ha detto sky cioè ragazzi sky non è che si inventa le cose sky è la fonte più autorevole che 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 esista sostanzialmente in italia e e quindi non credo che si inventi da nulla che il napoli il napoli e ben nardeschi siano molto molto vicini quindi la domanda me la faccio più che altro sulla radio ufficiale del napoli perché è una cosa secondo me è una notizia data per per fare dei click e per lanciare una bomba in negativo e quindi per attirare l'attenzione anche se è una cosa sbagliata perché sostanzialmente tu sei la radio ufficiale del napoli teoricamente il tuo lavoro è quella di riportare notizie capisco anche strategiche perché spesso sono fatte sono state date notizie strategiche però cioè secondo ragionamento logico capisco che bernardeschi l'offerta gli è arrivata non credo che che non gli sia arrivata l'offerta e quindi che dell'aurentis abbia detto una scemenza sky abbia detto una scemenza non credo capitemi e quindi mi faccio una domanda sulla radio ufficiale del napoli dico ma come è possibile nel senso magari bernardeschi non va a napoli ok perché poi finché non c'è il tweet ufficiale di dell'aurentis tutto può succedere ma come fai a dire che non gli è arrivata un'offerta se l'ha detto sky l'ha detto di marzo che sarebbe sky l'hanno detto vari vari giornalisti importanti l'ha detto dell'aurentis non che gli è arrivata l'offerta ma che è andata a parlare quindi non vedo poi magari non l'accetta anche se secondo me a questo punto è quasi un giocatore del napoli perché hanno trovato un accordo economico devono rimanere gli ultimi dettagli quindi probabilmente i bonus o la durata del contratto se magari si discute su 4 o 5 anni o magari si discute sui bonus champions bonus scudetto commissioni agente sono cose che vanno definite però capite che una volta trovata l'accordo economico comunque la trattativa è tutta in discesa e quindi sicuramente manca poco poi da adesso che sono le 8 le 9 di sera a domani mattina alle 7 che è appunto l'orale in cui uscirà questo video possono cambiare tante cose possono uscire nuove notizie magari dove c'è scritto non lo so bernardeschi no sky smentisce dice no guarda bernardeschi ha rifiutato categoricamente l'offerta è napoli e quindi non se ne fa nulla oppure può arrivare può dire sky no guarda che bernardeschi settimana prossima viene ufficializzato perché bernardeschi gli manca solo la commissione della gente e i bonus champions capite che tutto può succedere dalle 9 alle 7 del mattino però questo è un ragionamento che va fatto proprio alla base e poi voglio spendere una parola anche su culibali perché calito culibali ha rilasciato un'intervista in senegal che sta con la nazionale dove dice che per adesso non pensa a niente che non sia la nazionale poi gli hanno fatto la domanda del cacchio barcellona vai al barcellone lui dice non lo so nel senso io non so niente del mio futuro quando torno in europa poi si vede sinceramente mi fanno un po' paura queste dichiarazioni anche perché politano ha detto io non voglio restare culibali se ne va mertens se ne va per una questione economica ok non sono giocatori fondamentali tranne culibali e comunque mertens però non gioca titolare culibali è un giocatore fondamentale gli altri due bene o male li puoi rimpiazzare anche perché mertens non gioca titolare quindi compri un altro e ci perdi pochissimo anche se quando gioca poi mertens è il più forte in mezzo però politano vabbè voglio dire compri ben hardeschi bene o male siamo lì e però culibali e in questo momento quanto devi spendere per un difensore centrale forte come culibali e sono cifre massodontiche secondo me per meno di 30 40 milioni tu un giovane promettente che però già adesso un bremer per intenderci meno di 40 milioni di euro 35 milioni di euro un totano e comunque devi pagare uno stipendio alto il bremer non è festa non è che viene a prendere 2 milioni di euro a napoli ne potrebbe prendere molti di più da qualche altra parte da qualsiasi altra parte probabilmente e quindi capisci che paradossalmente rinnovando culibali a cifre medio alte risparmi poi se la tua intenzione è quella di sfasciare completamente la squadra che poi può essere in positivo e in negativo e diciamo di cambiare ok la squadra e allora parliamo di un altro totalmente di un'altra visione ok del mercato di quest'anno staremo a vedere perché io spero in realtà che non se ne vada culibali mertens credo che ormai ce lo siamo giocati politano si vedrà però a questo punto mi sa che è partito anche lui che ce lo siamo giocati anche se numericamente anche se ho detto 5 volte anche se numericamente non è un problema perché abbiamo a sinistra Cravatella e Lozano e a destra Apolitano e Bernardeschi poi al centro dello Feu perché probabilmente sostituirà mertens e davanti Osimeno quindi a livello numerico ci siamo perché Onas è partito quasi ufficialmente e quindi comunque tu vai a rimpiazzare Onas con Bernardeschi se permettete è meglio e poi a me come giocatore piace Bernardeschi perché vi direi una sciocchezza ok quindi sono felice se effettivamente Bernardeschi poi dovesse venire a Napoli per culibali ve l'ho detto non so e spero spero proprio che non se ne vada se no i profili ce n'è uno che però vuole essere pagato il Feyenoord parliamo di senesi ma non me ne vengono altri quasi pronti che possono sostituire e ci possono far perdere il meno possibile dalla cessione di culibali perché se compri un altro difensore centrale in Serie A chi ci sta cioè no voglio dire non è che ti vai a comprare un difensore centrale che non ti fa pesare l'assenza di culibali tu è difficile che rimpiazzi culibali non credo ci siano attualmente giocatori che con cifre tra i 20 e i 30 milioni ti rimpiazzano culibali quindi c'è Bremer però Bremer costa quindi bisogna fare questo discorso io non rinnovo culibali voglio mantenere un livello medio alto della difesa cosa mi conviene spendere un po' di più per culibali o mandarlo via va fatto questo discorso secondo me mi conviene rinnovare culibali perché risparmi come risparmi rinnovando Mertens secondo me risparmi molto molto facilmente quindi staremo a vedere che che notizie usciranno stasera tra l'altro io stasera ho fatto la live però la connessione non andava bene poi ho cambiato da telefono a computer alla fine è andata un po' una schifezza ma non è colpa mia è la colpa della della connessione che purtroppo non va e almeno qua all'altra parte della stanza stanno stanno facendo dei servizi non potevo fare dall'altra parte della casa e quindi devo capire un po' questa situazione come risolverla però sicuramente andremo un live adesso che vado in vacanza qualche sera ci facciamo una live e perché là la connessione prende e poi le prossime live ad esempio ipoteticamente il lunedì visto faccio dalla postazione all'altra casa e la sicuro va tranquillamente io vi invito a lasciare un like seguirmi su twitch punto logica calcio mettete un follow perché fidatevi ne vale la pena e vi rinnovo il buongiorno e buonanotte e niente per oggi è questo poi ci vediamo sicuramente in mattinata pomeriggio serata che domani è una giornata un po' particolare siamo in clima di partenze quindi becca vita la giornata di domani ok ciao ciao